Buongiorno, bentornati a Coffee Break con le immagini. Andiamo subito alla camera dove tra poco dovrebbe cominciare le consuete comunicazioni in Parlamento. Il Presidente del Consiglio Conte, come sempre alla vigilia dei vertici europei, il Consiglio europeo di domani e dopodomani, un intervento doppiamente atteso perché ovviamente si riparla di MES, di meccanismo europeo di stabilità. Oggi, peraltro, la Camera e al Senato il voto sulle risoluzioni a proposito di MES. È arrivata la notizia poco fa dell'accordo raggiunto nella notte nella maggioranza di governo, in particolare tra Movimento 5 Stelle e Partito Democratico. C'erano diversi mal di pancia tra i pentastellati, invece è stato raggiunto un accordo, è confermata, fanno sapere fonti del Movimento 5 Stelle, è confermata la logica del pacchetto, quindi meccanismo di stabilità e completamento dell'unione bancaria. E soprattutto si sottolinea che il Parlamento sarà informato di ogni passaggio prossimamente dopo le feste a gennaio. C'è il Presidente Fico adesso che presiede e poco fa delle comunicazioni. Sentiamo Conte. Il Consiglio europeo che si svolgerà domani e dopodomani a Bruxelles è il primo dopo il completamento delle nomine e dei vertici delle istituzioni europee. Sono in carica, come sapete, dal primo dicembre scorso la Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, il Collegio dei Commissari, il Presidente del Consiglio europeo, Charles Michel. Il 3 luglio, ricordo, era stato eletto il Presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, mentre il primo novembre è entrata in carica dal Presidente della Banca centrale europea, Christine Lagarde. Le istituzioni europee possono dunque iniziare a onorare l'impegno di realizzare buone politiche per i cittadini europei e di fornire loro soluzioni, risposte, opportunità. Il rilancio della crescita e dell'occupazione, soprattutto giovanile, la lotta al cambiamento climatico, il sostegno alla Green Economy, rappresentano questi obiettivi prioritari. Allora, i passaggi iniziali del Presidente del Consiglio, a proposito appunto della nuova governanza europea, sapete, insomma, un parto un po' tribolato per quanto riguarda la Commissione a guida Ursula von der Leyen. Intanto voglio presentarvi i nostri ospiti, do il bentornato a Peter Gomez, direttore del Fatto Codiano.it. Buongiorno, Peter. Buongiorno a voi. Eccoti, bentornato ad Antonio Macaluso, editorelista del Corriere della Sera. Buongiorno. Ci sono con noi, per quanto riguarda la politica, l'onorevole Osvaldo Napoli di Forza Italia. Grazie. Che saluto, bentornato, come do il bentornato a Gianfranco Librandi di Italia Viva. Buongiorno. Non fa il politico, ma fa anche l'imprenditore. E credo che sia la prima uscita, dopo aver raccontato proprio qui a Coffee Break, la famosa storia del finanziamento alla Fondazione Open di Renzi. Do il bentornato a José Rallo, che fa l'imprenditrice e che si occupa soprattutto di vino con Donna Fugata. Insomma, tanto per capirci. Allora, adesso fra un po' risentiremo dei passaggi del Presidente del Consiglio. Voglio partire però da Peter Gomez. Davo poco fa conto dell'accordo trovato nella notte, dopo molte riunioni e molti incontri, sulla cosiddetta risoluzione di maggioranza sul mese. Insomma, il Movimento 5 Stelle si è acquietato? E' così, Gomez? Da quello che ho letto, sono informato come voi, sì, ma sembrava abbastanza logico che il governo non potesse cadere realmente sul MES prima di approvare la manovra di bilancio. D'altra parte, di quello che aveva fatto l'Italia sul MEF, il governo precedente, giallorosso, era largamente informato. Io credo che questo sia un passaggio importante, che sia giusto che si discuta in Parlamento, perché è innegabile che delle cose cambiano. È vero che la ristrutturazione del debito non sarà automatica, ma il fatto di parlare di ristrutturazione del debito, sia pure indirettamente all'interno delle clausole del MES, non è un passaggio indifferente, perché questo ce lo raccontano anche una serie di economisti che non sono certo ascrivibili ai sovranisti. Quindi è bene che una discussione del genere venga seguita passo a passo dal Parlamento. Il MES esisteva anche prima, adesso cambia un pochino. Certo, ecco, diciamo che forse questa discussione non solo ha permesso di parlare di regolamenti, trattati, regole europee importanti, mettendone ovviamente a conoscenza l'opinione pubblica, ma è importante anche il fatto, la sottolineatura a cui facevamo riferimento prima, che adesso il Parlamento in qualche modo sarà più presente in ogni passaggio fino alla firma conclusiva. Dovrebbe essere una cosa normale che il Parlamento venga, come dire, non vedo niente di eccezionale, quando sento queste dichiarazioni anche da parte dei politici, non da Gomez, che Gomez direi che firmerei quello che lui ha detto totalmente. Questa è una notizia. Esatto, questa è una notizia, perché ha detto in parole molto semplici quello che la gente non capisce, ma quella che dice, verrà informato il Parlamento di volta in volta. Ma io vi chiedo scusa, ma è una cosa più... Una materia così delicata, no? Ma è tutto delicato quello che arriva in Parlamento. Vi chiedo scusa, quindi non vedo niente di eccezionale, vedo un fatto normale. Allora, voglio chiedere a Macalus un'altra cosa, perché il MES certo aveva creato molte criticità all'interno della maggioranza. Mi pare di capire che insomma dovrebbe passare questa giornata in maniera tranquilla, a parte quello a cui assisteremo stasera in Senato, dove Conte riparlerà, e ci sarà ovviamente uno scontro soprattutto con Salvini nel dibattito. Però ti chiedo, c'è qualche altro ostacolo all'orizzonte? Mi viene in mente la prescrizione. C'è la giustizia, certo, tutto il tema. Lo dico anche perché Peter Gomez ha da poco pubblicato per Paper First, cioè la casa editrice del Fatto Quotidiano, la Repubblica degli Impuniti. Eccolo. Abbiamo anche la copertina, credo. Eccolo qua. Eccolo lì. Così la prescrizione e le leggi vergogna salvano i potenti. Su questo Macaluso credi che ci possono essere problemi maggiori? Beh, sicuramente la linea di compromesso su un tema così delicato sarà difficile da trovare. C'è una discussione ed evidentemente penso che ci proveranno in tutti i modi. Però c'è proprio una diversità profonda tra le varie anime del governo su questo. E non penso soltanto al PD e ai grillini, o almeno a una parte, diciamo, dei grillini. Penso anche a Renzi, sostanzialmente, che è su posizioni totalmente, totalmente diverse. Non so se questo fosse il momento più opportuno, diciamo, per affrontare un tema così delicato come quello della prescrizione di fronte a un sistema giudiziario che fa acqua da tutte le parti e che nel complesso meriterebbe forse una riforma più ampia. Cioè prendere dei singoli pezzi di volta in volta non credo che sia... Anche se può sembrare più semplice per certi versi, diciamo, la tecnica del carciofo. Però credo che in realtà poi nasconda evidentemente delle problematiche che possono effettivamente essere un grosso problema per il governo. Adesso, visto che tiravi in ballo Renzi, poi ci torniamo in maniera più dettagliata sulla questione giustizia e prescrizione in particolare. Allora dobbiamo sentire l'onorevole Liberandi, no? Non vi piace la prescrizione così come l'ha disegnata il ministro Bonafede e che scatterà, o dovrebbe scattare, mettiamo il condizionale dal primo gennaio prossimo. No, non scatterà. Abbiamo preso delle posizioni precise e abbiamo chiarito che questo meccanismo non scatterà perché è un meccanismo che danneggia i cittadini. Il ministro Bonafede ha delle sue visioni sulla giustizia. Io mi ricordo delle dichiarazioni di Di Maio che diceva Parleremo di prescrizione quando riformeremo la giustizia quando, come diceva Macaluso, analizzeremo tutto l'impianto della giustizia perché ci sono tante cose da cambiare. Comunque la prescrizione è sicuramente una nostra battaglia e noi non la faremo passare. E quindi, insomma, dovremo monitorare con grande attenzione tutto quello che... Anche perché i giorni che mancano sono pochi, parliamoci in maniera molto franca. Cioè o c'è un rinvio o c'è una proroga che già c'era stata perché con la Lega al governo la Lega aveva chiesto una riforma organica complessiva mentre il Movimento 5 Stelle premeva soprattutto per la prescrizione. Ma le dichiarazioni di questa mattina anche del Movimento 5 Stelle sono più morbide, diciamo, sono più possibiliste di un rinvio e di una discussione più avanti. Sì, adesso poi ci torniamo. Voglio coinvolgere anche Roserallo per chiederle ma per chi fa impresa in questo Paese? La discussione che stiamo facendo, il MES, la prescrizione, hanno valore o no? Assolutamente sì. Sappiamo tutti che avere dei tempi della giustizia doppi rispetto non solo alla Germania, che è sempre il nostro benchmark, ma anche rispetto alla Spagna, per esempio, è un dramma. Sono punti di PIL che si perdono, sono punti di occupazione che si perdono, sono, mi permetto di dire, non soltanto un ostacolo per l'imprenditore italiano ma anche per l'imprenditore straniero che vorrebbe portare i suoi capitali in Italia ed è quello di cui l'Italia e il Sud Italia ha enormemente bisogno, di capitali stranieri per investimenti importanti. Una giustizia incerta, una giustizia lenta, così come una pubblica amministrazione lenta, incerta, corrotta, sono grandissimi ostacoli all'economia. Non aiutano assolutamente a proposito di investimenti. Non mi fa piacere sentire questo perché spesso da qualche imprenditore si sente dire no, i problemi sono altri, la pressione fiscale, che pure c'è come, la burocrazia fiscale, il costo del lavoro, lei dice no, guardate che la giustizia è elemento cruciale per chi fa impresa. Io voglio dire una cosa, il problema grosso di questo Paese, di cui fanno parte lo Stato, gli imprenditori, i cittadini, è la produttività. La produttività del nostro Paese è sotto le scarpe, non è cresciuta mentre quella degli altri è cresciuta. E se non pensiamo a questo e alle varie componenti della produttività, in cui renta anche la giustizia, l'efficienza della pubblica amministrazione, l'investimento in nuove tecnologie, la formazione, se non pensiamo a questo non ci emanciperemo mai da questa situazione di emergenza continua. Allora, ho una pubblicità tastativa, visto che i Brandi, credo, nel ruolo di imprenditore voglia intervenire, rimandiamolo dopo la pubblicità che è tardissimo e ripartiamo mettendo un altro elemento nel nostro menu perché possiamo dire che è Piazza Italia, i sindacati ieri a Roma per il lavoro, alla luce delle tante crisi industriali, a Milano 600 sindaci sfilano in solidarietà alla senatrice Segre, sopravvissuta all'olocausto e sottoscorta la paura e il pericolo dell'antisemitismo, a Torino migliaia di sardine, in Piazza Castello al grido no al fascismo, no a Salvini. Lo vediamo dopo la pubblicità. Grazie a tutti! Mi hanno detto che una volta la politica cercava di dare un buon esempio alle persone. Basta, odio, parliamo d'amore. Io prendo il positivo, il positivo è che 600 sindaci e sindache hanno deciso di essere qua, quindi è anche un messaggio, guardate che noi non ci troviamo indietro. Da questa piazza noi diciamo con molta forza che c'è bisogno di rimettere al centro il lavoro e c'è bisogno di rilanciare un piano straordinario di investimenti. E parliamo sia al governo, ma a cui chiediamo dei cambiamenti reali, sia agli imprenditori e alle imprese. Io seguo la politica da poco, ma mi sembra l'opposto. Mi sembra che si occupi solo di attraverso il consenso, di fare propaganda, fregandosene di tutto, di quelle che sono le reali necessità degli italiani e di noi giovani. Oh, le immagini, le voci, i protagonisti in questo servizio curato dalla linea Bruno. Allora, riparto da Peter Gomez. Qualcuno ha scritto in questi giorni, in queste settimane, nelle piazze italiane che sono tornate protagonista, protagonista e c'è un'Italia diversa, non è l'Italia arrabbiata, rancorosa. Che sta succedendo dal tuo punto di vista? Beh, che dopo tante manifestazioni, diciamo, di Salvini e del centrodestra, chi non si identificava con Salvini e del centrodestra, ha voluto far sentire la sua voce. E lo fa non sotto bandiere di partito, perché evidentemente non si sente rappresentato pienamente dai partiti che si oppongono a Salvini. Detto questo, io sono molto preoccupato, ovviamente, del clima di questo paese, però mantengo il senso delle misure. È vero che ci sono fronti contrapposti, eccetera, ma il 99% delle manifestazioni, sia che a destra che a sinistra, sono fortunatamente tutte pacifiche. Io sono un po' più anziano, come molti di voi in studio, ci ricordiamo tutti gli anni 70, gli anni 80. Quello sì che era un clima d'odio, davvero. Si scendeva in piazza e non si sapeva nemmeno se si tornava. Allora, è bene condannare ogni manifestazione d'odio, ogni manifestazione di violenza, ma dobbiamo anche renderci conto che da entrambe le parti vediamo delle grandi manifestazioni democratiche e generalmente non violente. È vero di la verità. Hai fatto bene a sottolinearlo, i brandi arrivo-arrivo che aveva anche in sospeso prima della pubblicità, credo, un intervento. L'Italia è un paese meraviglioso, mi meraviglia sempre di più. Prima di tutto sottolineo che siamo sempre la seconda potenza industriale, quindi il merito europea è sicuramente degli imprenditori, ma anche dei lavoratori. Quindi la produttività c'è. Diciamo che ci sono tanti problemi di burocrazia, tanti problemi di incompressione, però Landini chiede a noi imprenditori se siamo pronti a lavorare con lui e noi siamo pronti. Siamo pronti anche a condividere gli utili, a fare tante cose nuove. La compartecipazione. Questo lo dicevamo da tanto tempo. E poi dico che questa cosa che sta succedendo, delle piazze piene di persone che rifiutano la situazione politica proposta da Salvini, che ci voleva portare verso Orban, verso mondi oscuri, è rifiutata dal cittadino che ad agio ad agio, invece di non votare, scende in piazza e manifesta la sua idea. Quindi è una bella Italia. E se facciamo il conto che queste sardine sono a sinistra, credo, siamo già con tutti gli altri partiti. Ci metto anche il Movimento 5 Stelle, anche se magari in qualche momento ci ha creato qualche problema di proposte stravaganti. Io dico che siamo già al 60%, quelli di sinistra, di centro-sinistra, contro un centro-destra che sta precipitando. È un po' ottimista forse. Io sono sempre ottimista. Stando ai sondaggi mi sembra un po' ottimistica come previsione. Se fossi Salvini comincerei a preoccuparmi, perché adesso il 50% che erano quei 47 che non votavano stanno andando in piazza a dire che ci sono anche loro. E quindi l'Italia si sta risvegliando. Si sta risvegliando e mi sento più tranquillo come italiano, come politico. Allora, sentiamo Svaldo Napoli. È d'accordo con questa... Innanzitutto una battuta di colore, se così posso dire. sentire Sala che dice sindaco e sindache... A me non piace tanto. Io ricordo... Per me il sindaco l'ho fatto 27 anni e il sindaco donna... Se facciamo stare Sala, va, che è il numero uno al mondo. No, ma io non sto parlando dell'operato di Sala, che è un ottimo sindaco. Se non ci fosse lui... Chiedo scusa, è una cosa completamente diversa. Però, Don Napoli, posso chiedere? Detto questo... I sindaci che erano ieri a Milano, venuti un po' da tutta Italia, in maggioranza erano sindaci di centro-sinistra? No, ma adesso vado sulla risposta per quanto riguarda Librandi. Allora, io parto da un concetto. La piazza non è di nessun colore e non è contro soltanto Salvini. Ti piacerebbe. Chiedo scusa. Io non ho interrotto. Sì, scusa. E aggiungo anche un'altra cosa. Secondo me quella piazza è contro la politica. Una politica che da parte... Sono piazze antipolitiche. Che stufa di un certo tipo di politica, che cerca il consenso elettorale e non cerca invece la risoluzione dei problemi. Questa è la verità. Perché quando Librandi, che fa l'imprenditore, mi parla che c'è produttività, poi l'Istat mi dice che abbiamo meno 2% di produttività ieri e abbiamo un prodotto interno lordo che aumenta dello 0,2, intendo dire che c'è qualcosa nei governi di centro-destra, di centro-sinistra, quello che tu vuoi. Io non entro in merito. Io dico soltanto vuol dire che in questi anni governi da una parte, governi dall'altra, non hanno fatto nulla. Voglio dire una cosa. Mi permetto un'altra cosa. Ma cosa stai dicendo? Ma veramente? No, ma... 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 Chiedo scusa. Ma in che mondo vivi. Chiedo scusa. I dati... Fortuna che sei di Forza Italia. Ma io tengo rispetto. I dati che ho dato sono forse sbagliati. No, ma dai anche gli altri dati. Ma dai gli altri che cosa? Dai gli altri dati. Se siamo in queste condizioni, perché è da anni che arriviamo a queste condizioni. No, perché c'è stato Salvini. Voglio fare soltanto... Con voi che gli spalle giavate. Ma no, ma no, ma lascia stare. Ascolta scusa. Anche soltanto quello che sta avvenendo in questi giorni, per quanto riguarda la legge di bilancio, piaccia o non piaccia, c'è un aumento di 11 miliardi di tasse. E c'è... Che bombe. E chiedo scubi. Ma che bombe. E c'è un aumento del debito pubblico, c'è un aumento del debito pubblico di 16 miliardi. Un attimo, Napoli. Un attimo, fatemi fare un passo avanti. Io non devo rassurre la lega. Vado da Maceruzzo. Se Dio vuole... Un attimo, un attimo solo. E rispondo di me stesso. Napoli. Napoli, un attimo di una moratoria, vi chiedo. Allora, che piazze sono dal tuo punto di vista? Sono piazze però dichiaratamente antidestre e antisalvini? Sicuramente. Io non sono d'accordo sul fatto che non sia una piazza politica questa delle Sardine. E noto con piacere, peraltro, che è una piazza molto diversa da quella che rappresentò l'ascesa dei Cinque Stelle, le piazze del Waffa, diciamo. Che erano delle piazze che avevano dentro, diciamo, veramente una dose molto carica, molto forte di antipolitica e anche di violenza, in qualche modo. Ne sappiamo noi anche qualcosa come giornalisti, diciamo, che abbiamo subito spesso... Soprattutto verbale, però. Soprattutto, per chiarità. Soprattutto verbale, ma tu mi insegni, diciamo, che la violenza può partire, diciamo, dal verbale. Questa è una piazza molto diversa, che, diciamo, pur senza simboli di partito, è una piazza però più matura, sicuramente più, diciamo, che ha invece, io penso, un germoglio di politica, di una politica diversa. Certamente, avvisa i partiti tradizionali, i partiti che c'hanno è che così non va. È una piazza di giovani che dicono che pensano giustamente al loro futuro. È una piazza che, sono d'accordo con Librandi, mi rassicura. Cioè, mi rassicura il fatto che ci sia come... Mi rassicura che dall'Alta Patte ci siano delle piazze altrettanto pacifiche. Noi, fortunatamente, in Italia non abbiamo... E sono d'accordo con Gomez. Noi ci ricordiamo le manifestazioni a cui partecipavamo molti anni fa, erano diverse e nello stesso tempo non abbiamo avuto gilet gialli. Ma queste piazze testimoniano in qualche modo una ripresa anche, come posso dire, alla passione civile e politica di chi magari non va più a votare. Esattamente. Questo potrebbe essere, diciamo, la miccia che innesca, diciamo, una nuova partecipazione, che arriva dal basso, ma non è una partecipazione... Siamo sicuri che non sono, come dire, le descrizioni che fanno i grandi giornali, i giornali e poi... Speriamo di no. Nella realtà le cose sono diverse. Speriamo di non sbagliarci. Su questo un flash da Gomez, vorrei, no? Non vorrei che fosse poi una narrazione... Non ne sono per niente sicuro, ho esattamente i tuoi dubbi. Io apprezzo tantissimo queste piazze, apprezzo chi fa politica, ma diciamo che i giornali e i media hanno una tendenza ad entusiasmarsi che spesso in passato li ha portati a sbagliare. Tutto questo avviene nelle città, pochissimo nelle province, niente nelle campagne. Siamo di fronte, secondo me, ancora alle due Italie. L'Italia che vota in un certo modo sopra i 60.000 abitanti, nei centri sopra i 60.000 abitanti e nei centri storici. E l'Italia che vota spesso in un altro modo quando i centri sociali hanno più difficoltà. Sì, cosa che avviene peraltro in Francia e in Gran Bretagna. Beh, detto questo è una bella manifestazione. Come no? Hai fatto bene a ricordarlo, perché questo ci fa molto ben capire, ci dà la consapevolezza di poi come il consenso è anche distribuito da un punto di vista anche geografico. Allora, dobbiamo andare in pubblicità, poi riparto da José Rallo. Intanto andiamo alla Camera dove il Presidente del Consiglio Conte sta ancora parlando. Sentiamone proprio un brevissimo passaggio. Riteniamo negativi in particolare interventi di carattere restrittivo sulla detenzione di titoli sovrani da parte di istituti finanziari, da parte delle banche. E comunque riteniamo negativa la ponderazione dei rischi dei titoli di Stato attraverso la revisione del loro trattamento prudenziale. comeppure riteniamo negative le disposizioni che prevedano una contribuzione degli istituti finanziari all'Edis in base al rischio di portafoglio dei titoli di Stato. Nei prossimi passaggi del negoziato sull'Unione bancaria ci faremo promotori dell'introduzione allo schema di assicurazione comune dei sui depositi Edis cosiddetto di un titolo obbligazionario europeo sicuro io ne ho già parlato nella informativa del 2 dicembre il cosiddetto safe asset semmai nella forma di Eurobond e ci impegneremo anche per una mogione ponderazione di rischi Allora abbiamo colto proprio un passaggio insomma chiave che riguarda complessivamente il MES ma in particolare a proposito dell'Unione bancaria e completamente dell'Unione bancaria le parole di Conte non interventi restrittivi perché poi il vero pericolo è che a soffrirne possano essere i nostri titoli di Stato veniva da sottolineare quasi ha avuto un attimo nel dire queste cose una quasi una gaffe Conte perché ha detto l'assicurazione comunque sui depositi stava dicendo debiti no? questa è la grande partita che riguarda gli euro bond no? la messa in comune del debito in Europa no? almeno così mi è sembrato ma forse sbaglio pubblicità e torniamo subito non sappiamo se il nostro stipendio sarà pagato a gennaio non sappiamo se dobbiamo andare in cassa integrazione non sappiamo se abbiamo delle tutele siamo al degrado Exilva Whirlpool Alcoa Embraco Bosch lavoratori metalmeccanici fino a ieri dipendenti di importanti realtà industriali a cui oggi va aggiunto il prefisso ex sono più di 160 infatti i tavoli di crisi aperti al ministero dello sviluppo economico che investono più di 250 mila lavoratori da ogni angolo del paese siete lavoratori della Bosch voi sì noi Bosch bari praticamente stiamo avendo come dire da tanto tempo il problema degli esuberi siamo arrivati veramente a non riuscire più a pagare le bollette sono arrivati migliaia ieri a Roma per manifestare contro la desertificazione industriale del paese per rimettere al centro della discussione politica il tema del lavoro la nostra industria è il simbolo della libertà dell'eguaglianza della ricchezza della prospettiva devono rimanere tani abbiamo bisogno di tavoli della componentistica la componentistica in Italia sviluppa il 2,7% dell'export quindi pesa tantissimo sulla bilancia nazionale motivo per cui oggi dobbiamo più che mai lottare per il nostro futuro se fino all'anno scorso si era registrata una flessione importante del ricorso alla cassa integrazione nel 2019 le cose sono cambiate in peggio più 18% con oltre 20 milioni di ore in più mentre nei primi dieci mesi dell'anno 121.000 lavoratori metallomeccanici sono stati investiti da un'assenza totale di attività produttiva quanto tempo ha lavorato lei nella Weerbull? adesso faccio 30 anni l'anno prossimo quando lei è stata assunta alla Weerbull se lo sarebbe immaginato che oggi sarebbe sceso in piazza? no mai immaginato era una sicurezza quella azienda? sì era meglio di un posto in banca e invece? invece adesso siamo come tutto al sud non c'è niente più di sicuro industrie in crisi che fanno sprofondare il paese in una perdita di reddito pro capite preoccupante negli ultimi mesi dell'anno il reddito complessivo dei lavoratori metallomeccanici è diminuito di 878 milioni di euro al netto delle tasse e spesso ancora una volta il dramma si chiama delocalizzazione noi veniamo dalla Sardegna siamo esattamente quattro stabilimenti sana in tutta Italia produciamo il 70% del refrattario che va all'inva senza il refrattario non esiste acciaio noi ci troviamo nella situazione che Mittal attualmente sta acquistando il refrattario dalla Polonia ci troviamo senza ordini per il prossimo semestre e chiediamo al governo che intervenga la politica non è in grado di avere uno straccio di strategia industriale ci vuole serietà l'impresa il lavoro devono uscire dall'agone delle liti dentro i partiti il lavoro deve tornare ad essere un elemento centrale basta pensare che vale la precarietà basta pensare che il lavoro è una merce che si può comprare e vendere al centro deve tornare il lavoro la qualità del lavoro e l'intelligenza delle persone allora storie e testimonianze raccolte da Francesco Bardaro durante la manifestazione di ieri a Roma che ci parlano dei tanti esuberi nel settore manifatturiero siderurgia in testa con la questione dell'ex Ilva ma anche in altri settori anche nel settore dei servizi pensiamo per esempio per gli esuberi annunciati qualche giorno fa da Unicredit una delle grandi banche italiane quasi 6.000 solo nel nostro paese poi ovviamente è cominciata una negoziazione con i sindacati dei bancari e vado da Giusei Rallo che prima mi scuso erroneamente pronunciavo il suo nome non so la spagnola la sudamericana Ose è Giusei Rallo allora lei opera in un settore quello dell'agroalimentare vitivinicolo che insomma invece è in grande spolvero mettiamola così nell'altro paese diciamo di successo è un settore trainato dall'export è un settore molto legato alla terra italiana quindi ha un suo portato di unicità non si può delocalizzare non si può delocalizzare quindi questo è sicuramente molto importante è un settore dove tutta l'Italia è impegnata ma soprattutto il sud il sud è molto impegnato in agricoltura e nell'agroalimentare e la mia Sicilia mi scusi che è in grande crisi sentivamo delle testimonianze molti di questi lavoratori lavorano in aziende del sud dopo quattro anni di crescita il sud segna un trend negativo purtroppo però il settore appunto dell'agricoltura dell'agroalimentare di qualità è invece in crescita soprattutto grazie all'export ma le chiedo quando si parla di politica industriale che vuol dire che allora in alcune aree di questo paese bisognerebbe orientarsi solo in quei settori la mia idea è proprio questa cioè non possiamo mantenere in vita un settore che non ha un futuro perché non è competitivo sul mercato per esempio alcuni rami del metalmeccanico l'elettrodomestico che i cinesi fanno a un quarto del prezzo al cui lo facciamo noi non li possiamo mantenere in vita per sempre ma dobbiamo investire sui settori che hanno dei trend positivi l'elettronica le nuove tecnologie il turismo perché anche lì l'Italia è unica l'agroalimentare è unico non possiamo buttare 10 miliardi su Alitalia e nel frattempo non facciamo sviluppare le nostre università su quei settori che hanno trend positivo o lavorare sulle eccellenze italiane che ancora fanno successo bisogna fare delle scelte assolutamente vado da riprandi però non si può fare a meno del manifatturiero non è che l'Italia può vivere di agroalimentare e turismo per esempio settore ILVA è chiaro non ci possiamo dimenticare un per cento del PIL italiano una sola azienda nonché un prodotto che è l'acciaio che è strategico per le industrie italiane allora lì il discorso ILVA è c'è una soluzione per cui senza fare morire la gente e producendo a prezzi competitivi io posso andare avanti quanto costa questo piano di investimenti Librandi vorrei dire questo prima di tutto per rispondere al sindacato e anche alla signora che giustamente ha un'azienda di successo vorrei dire che questo successo dipende anche dalla politica perché negli anni ha agevolato tantissimo il settore ha favorito l'impresa assolutamente le imprese agricole si lamentano perché noi italiani ci lamentiamo sempre poi per quanto riguarda la situazione della crisi i tavoli che gestiamo della crisi 149 tavoli che si occupano di 200.000 persone più 70.000 dell'indotto che non lavorano sono una cosa molto seria che tutti i governi hanno sempre affrontato con grande serietà nel senso che si mettono lì tutti i giorni a cercare le soluzioni Patuanelli ha fatto l'ultimo ministro che si occupa di questa cosa ha fatto un intervento in Parlamento molto puntuale molto giusto che è durato anche più di un'ora e ha spiegato come avviene il lavoro sui tavoli di crisi diciamo che dal mio punto di vista ce la mettono tutta però poi le esiti non sono positivi però io direi una cosa sono 200.000 persone sono tante 270.000 persone però troviamo anche delle idee nuove perché Landini che ci dice come dobbiamo fare impresa cioè guardi proprio non ci credo possiamo lavorare insieme però io dico una cosa se vogliamo fare impresa per esempio perché non mettiamo lì delle parole tipo autogestione questi signori che vanno lì protetti dal sindacato invece liberiamogli un po' la testa e cerchiamo di aiutarli a fare impresa da soli magari da una Whirlpool che come diceva giustamente c'ha dei prodotti vecchi rispetto perché sono 20 anni che non investi non hanno investito queste persone oppure Oceano o altre società che hanno sbagliato e sono pure di un'altra nazione adesso le dobbiamo mantenere noi allora bisogna mettere in testa ai dipendenti che aiutandoli possono fare delle start up possono fare delle cose per continuare una parte o nel service sono la produzione di una parte dei prodotti che sono ancora richiesti si dice riformarli insomma nel senso della formazione scusate un attimo solo Napoli devo sentire Gomez su questo perché è una discussione molto interessante secondo me proprio per il futuro non soltanto del lavoro ma dell'industria della crescita del paese voglio sentire come la pensa Gomez perché poi si può disegnare il futuro a parole ma poi bisogna fare i conti con tanti esuberi per esempio Librandi poco fa accennava alla situazione Oshan Conad sì Conad assorbe Oshan ma ci sono due o tre mila esuberi in ballo Allora la politica può fare e può fare tanto però bisogna anche renderci conto che siamo di fronte a un cambiamento copocale siamo di fronte alla quarta rivoluzione industriale qui la parlavamo di Unicredit Unicredit poteva e doveva fare scelte diverse però tutti noi sappiamo quanto poco andiamo in banca con l'avvento delle banche online questo è l'esempio più chiaro rispetto a tutti per quanto riguarda la componentistica auto che è un settore importantissimo per noi però sappiamo anche che in seguito agli scandali che hanno coinvolto le grandi imprese tedesche di auto che taroccavano i dati sull'inquinamento dei loro motori è partito un grande clima di sfiducia per i consumatori che adesso vedono e aspettano l'ingresso dei modelli che stanno arrivando a poco a poco i modelli ibridi ed elettrici un comportamento cattivo degli imprenditori ha portato sfiducia nel mercato dei consumatori in modelli che in realtà erano già non particolarmente inquinanti i consumatori a questo punto aspettano i modelli nuovi si è bloccata la produzione perché ci vorrà del tempo a partire dal 2021 al 2022 vedremo i modelli nuovi si blocca il nostro manifatturiero per quanto riguarda la componentistica siamo di fronte a una grande transizione ha ragione la dottoressa Rallo l'agricoltura è una cosa su cui noi dovremmo puntare l'altra cosa su cui dobbiamo puntare è certamente la green economy sapendo però una cosa che i risultati non si ottengono da oggi a domani se anche trovassimo tutti i soldi da investire non è che noi creiamo posti di lavoro in sei mesi e allora il punto è cosa facciamo con le tante persone che di fronte a questo stravolgimento del mercato quello che è avvenuto negli paesi dell'ex terzo mondo eccetera cosa facciamo con queste masse di persone che hanno tutto il diritto di voler vivere campare eccetera è un problema enorme questo mi sa che è lo snodo cruciale di tutte le discussioni allora un attimo Napoli dopo la pubblicità io riparto da Osvaldo Napoli che è stato silente in questa ultima parte però adesso c'è Paolo Sottocorola quindi tutte le discussioni si fermano buongiorno 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 allora in questa questa immagine si vede la vecchia circolazione quella che ancora interessa al sud con qualche pioggia e ancora lo farà per la giornata di oggi poi le ampie zone di sereno che prendono gran parte del centro il nord e già le prime nuvole del nuovo peggioramento che comincerà sulle zone di nord ovest anche stasera ma senza grandi grandi sconvolgimenti domani qualcosina comincia a cambiare queste sono le piogge previste per il pomeriggio di oggi vedete quelle più intense si allontanano sullo Ionio restano deboli al sud si presenta qualche debole pioggia sulle zone di nord ovest accompagnata da questo aumento della nuvolosità pomeriggio serata ma sono piogge generalmente deboli la giornata di domani comincia ad avere già un altro aspetto perché abbiamo su tutto il medio basso versante tirrenico sulle isole maggiori piogge almeno moderate il colore azzurro poi abbiamo questa zona che prende parte della Romagna l'Emilia la Toscana e parte della Liguria con precipitazioni di una certa consistenza che poi tendono a estendersi un poco anche verso almeno verso parte della Lombardia del Veneto e qui queste piogge entrano in una situazione di aria abbastanza fredda quindi le nevicate scendono a quote relativamente basse localmente potrebbero toccare la pianura ma io penso senza grandi quantità però insomma dai 500 metri le quantità ci potrebbero cominciare ad essere il tutto viene va a sfociare nella giornata di venerdì che è una giornata di fortissimo maltempo un po' ovunque con l'eccezione forse temporaneamente del Piemonte dove vedete c'è questa piccola isola bianca in cui teoricamente non piove ci sarà forse un effetto di fen che protegge però al di là e sulle Alpi i fenomeni sono intensi Alta Toscana Liguria Appennino Tosco Emiliano sono intensi le coste del Veneto Corsica Sardegna a zone interne del centro Basso Tirreno insomma ce n'è un po' per tutti quindi giornata molto critica da questo punto di vista ma in miglioramento abbastanza rapido direi nella giornata di sabato questa foto sembra questa che ci manda Andrea molto tranquilla questo questo uccellino è invece una denuncia fortissima perché Andrea è un ornitologo che si occupa di variazione delle migrazioni in relazione ai cambiamenti del clima e lavora a Linosa a Linosa questo passeraceo della famiglia dei passeri che è del Nord America non c'è mai stato è la prima volta che un uccello di questo tipo arriva in quelle zone per il tempo che c'è stato sul Nord America è difficile capire il perché ma è un brutto segno questa mattina sui giornali c'era un'altra notizia che può sembrare sciocca ma è invece inquietante che si è avuto l'anno scorso con quel maltempo sui mari con mareggiate molto forti e ci sono stati dei terremoti provocati dalle mareggiate e questo è un bruttissimo segno perché finora geologia e meteorologia restavano staccati e invece se comincia il clima a influire anche sulla geologia sui terremoti sugli tsunami siamo del gatto si dice in Toscana insomma non è che chiudi dandoci notizie confortanti però è vero grazie io già interpretavo questa foto sembrava bucolica invece siamo stati smentiti clamorosamente allora grazie Paolo Sottocorona qualche minuto riparto da Svaldo Napoli poi parliamo c'è qualche notizia che riguarda la legge di bilancio così faticosamente all'esame del Parlamento e ritorniamo sulla giustizia e sulla prescrizione perché ci dobbiamo far dire da Peter Gomez alcune cose a proposito della sua Repubblica degli Impuniti e tra poco Allora andiamo con le immagini alla Camera dove è già cominciata la contrapposizione e che contrapposizione purtroppo questo non è diciamo uno dei momenti più forti durante la pubblicità c'è stata una grande polemica tra l'onorevole Quartapelle del Partito Democratico e l'onorevole Ziello della Lega poco prima c'era stato uno scambio di battute velenosissime tra Mollicone di Fratelli d'Italia e alcuni deputati invece del Movimento 5 Stelle insomma questo è l'antipasto il prologo di quello che potrebbe succedere poi nel pomeriggio in Senato dove appunto ci sarà nuovamente l'intervento del Presidente del Consiglio Conte e poi il dibattito perché come ricordavamo all'inizio si votano le risoluzioni sul meccanismo europeo di stabilità allora no vedevo Damoli che sorrideva insomma il clima è bello infuocato esatto io ci ritorno l'amico Liprandi a idee diverse dalla mia io dico che la responsabilità è della politica l'immagine che noi diamo alla gente sul comportamento della politica anche in questa occasione e ne parlavamo prima sul MES abbiamo mandato un'immagine completamente sbagliata ed errata che la gente non ha capito letteralmente nulla io do ragione alla Furlan quando dice la politica ha la responsabilità scusate avete letto tutti che parlava di crisi industriali esatto ritorniamo alla crisi dove era allora abbiamo letto tutti che la magistratura interviene l'altiforno 2 da chiudere entro il 13 cos'è e notizia un attimo di stamattina cioè i giudici di Taranto hanno intimato all'ILVA ai commissari dell'ILVA che l'avevano chiesto di chiudere l'altiforno 2 perché è un impianto ancora molto pericoloso per gli operai qualche anno fa è morto un operaio in quell'area era stato chiesto più tempo per mettere in sicurezza l'impianto i giudici hanno detto di no questo ovviamente ha provocato nuove grandi preoccupazioni nei sindacati e potrebbe intervenire il governo con un decreto però le chiedo scusa ma noi dobbiamo anche ricordare come quando inizia la questione dell'ILVA abbiamo iniziato a dire che al posto dell'ILVA facevamo un parco giochi oppure vogliamo vogliamo dimenticare le cose cioè siamo passati da quello che diceva la dottoressa un punto di prodotto interno all'ordine a fare un parco giochi siamo passati a discutere lo scudo penale sì lo scudo penale no lo scudo penale sì lo scudo penale no e siamo ancora oggi ad una situazione d'impasse che non sappiamo come uscirne non sappiamo come finirà il negoziato aggiungo lo dico perché tutti noi lo sappiamo io faccio l'amministratore locale ma abbiamo miliardi miliardi fermi di investimento che sono fermi e che non vengono attuati ecco l'altro giorno sentivo il professor Cassese che diceva una cosa faceva l'esempio di piazza Venezia Roma e da cinque anni che ferma il lavoro di piazza sapete perché c'è lo sciopero della firma e cioè si ha paura di firmare i documenti e il resto scusate quindi voglio dire siamo in una situazione che se non investiamo i soldi che abbiamo come facciamo a produrre occupazione e questo è uno dei grandi problemi è uno dei problemi più grandi che noi abbiamo fatemi dire due cose intanto perché non ci dobbiamo dimenticare arrivo come che in senato c'è una corsa contro il tempo per approvare la legge di bilancio farla passare alla camera in tempo per l'inizio delle festività perché entro il 31 dicembre va licenziata altrimenti si rischia il cosiddetto esercizio provvisorio i lavori in commissione bilancio della camera sono slittati intanto alle 12 dalle 10 di stamattina che dovevano cominciare poi do conto di quanto ha detto Greta Thunberg la paladina per la sostenibilità ambientale ha detto da Madrid per i leader dei paesi più ricchi non c'è panico non c'è un senso di emergenza nell'affrontare il problema del cambiamento climatico e quindi non c'è urgenza nel mettere in campo interventi per affrontare il riscaldamento globale mi scusi pancani volevo dire una cosa anche l'Italia ha pagato 540 o deve pagare 548 se non sbaglio milioni di penali per non aver ottemperato determinate leggi europee sull'ambiente 548 548 milioni quindi voi pensate a che punto siamo arrivati allora manca qualcosa fatemi andare da Gomez Peter non so volevi intervenire su quest'ultima parte di discussione si prima una cosa una cosa per dare straordinariamente io e l'onorevole Napoli oggi siamo molto d'accordo storicamente non è così mi ha colpito parla male dei politici no parlo di male di me stesso parlo male di me stesso ma perché non siamo capaci mi faccio autocritica mi faccio autocritica Librandi io non sono polemico io non sono polemico dicevo solo che un cittadino che ha osservato quello che si diceva col presente precedente il governo gialloverde sul MEF e quello che si dice adesso rimane un po' sconcertato io condividevo quello che sentivo che diceva l'onorevole Quartapelle del Partito Democratico il MEF è un'assicurazione però io ricordo anche l'intervento dell'onorevole Quartapelle quando il MES era discusso dal precedente governo che era un intervento che a me appareva diametralmente opposto e allora io penso che la sensazione di molti cittadini poi magari mi sbaglierò di non essere di fronte a volte a dei partiti ma semplicemente a delle parti in commedia a secondo di chi afferma un principio ci si oppone a prescindere e questo non è bello e questo aumenta secondo me la sfiducia da parte dei cittadini poi mi sbaglierò senti una battuta sulla Repubblica degli Impuniti questa viene definita la riforma della prescrizione è la prescrizione infinita insomma c'è un grande dibattito prima insomma se ne abbiamo accennato vedremo come le forze principali di governo cioè PD e Movimento 5 Stelle si acconceranno si accorderanno ma perché tu sostieni che è una buona cosa la riforma della prescrizione Allora io lo sostengo da circa 20 anni ben prima di questa riforma avendo fatto per tanti anni il cronista giudiziario noi abbiamo due esigenze una è l'esigenza delle vittime dei reati e non a caso tutte le associazioni di vittime dei reati sono concordi con la riforma l'altra è la giusta esigenza che i processi non siano infiniti allora la domanda è perché i processi in Italia durano tanto la risposta che io mi sono dato numeri alla mano e esperienza alla mano è che i processi che vengono celebrati in Italia sono troppi perché sono troppi cioè essendo troppi è dato che durano tanto perché sono dei processi giustamente garantisti che danno la maggior la maggior possibilità a un cittadino ingiustamente accusato di essere assolto e quindi si fanno tante udienze si ascoltano tante persone se diventano tanti i processi puoi aumentare i giudici all'infinito ma prima o poi si ingorgeranno e questo è quello che è accaduto quando nel 1989 fu inventato il nostro codice di procedura penale preso molto dagli Stati Uniti e dall'Inghilterra i nostri quelli che lo scrissero l'avvocato Pisapia degli importantissimi giuristi lo trovate nei lavori dicevano non preoccupatevi perché intanto i processi che arriveranno in aula saranno pochi se dureranno tanto ma la maggior parte degli imputati se raggiunti da prove forti decideranno di non farsi processare perché sapranno che alla fine del processo gli verrà data se colpevole una condanna molto dura e decideranno invece di prendersi una condanna più breve patteggiando la loro pena ora nel corso degli anni è avvenuto che cambiando la prescrizione soprattutto nel 2005 con una disgraziata legge che si chiama Ex Cirielli che l'ha molto accorciata che tantissimi imputati hanno avuto la convenienza a dire sì le prove contro di me sono forti però se io resisto in giudizio è possibile che arrivi la prescrizione oppure che il Parlamento voti un indulto un indultino una svuota carceri la prescrizione non risolverà tutti i problemi ma aumenta il blocco della prescrizione ma a mio avviso spingerà più imputati verso i riti alternativi perché non è stato fatto secondo me fino adesso poi vanno fatte tante altre cose non è l'unica cosa da fare perché se prendete l'elenco delle persone realmente importanti di questo paese non dico solo i politici delle classi dirigenti che pur avendo addirittura confessato i loro reati si sono salvati con la prescrizione l'elenco diventa impressionante però Benedetti molti costruttori romani editori di giornali nove volte Berlusconi è un elenco infinito di grandi proprietari di giornali editori di televisioni persone che con un processo che fosse andato veloce sarebbero state verosimilmente condannate il problema il problema adesso è questo Peter quindi la prescrizione il blocco della prescrizione non è l'unica strada ma è la strada da cui si comincia gli effetti di questa legge si avranno a partire dal 2005 si si no questo l'ha detto anche buona fede ma si può cominciare a pezzetti si può cominciare a pezzetti per approvare una serie di correttivi primo fra tutti le punizioni ai magistrati che si dimenticano di fissare i processi per far sì che il sistema riprenda a funzionare come negli Stati Uniti in Inghilterra scusate scusa Peter sei stato chiarissimo io ho due minuti vi chiedo dei flash i tre quarti dei processi vengono poi i tre quarti di chi viene processato viene assolto con quel tipo di prescrizione aspetteranno 20 anni aspetta non si sente è peccato con quel tipo di prescrizione aspetteranno 20 anni sistemiamo un attimo l'audio di Gomez vado da Francesco Magnani pronto per la raghettina e poi magari gli facciamo una domanda buongiorno Francesco Andrea sarò brevissimo ripartiremo dalla seduta rovente del Parlamento dopo l'intervento di Giuseppe Conte poco fa Borghi lo ha accusato di alto tradimento ripartiremo dalle parole del Presidente del Consiglio e ci interrogheremo con i nostri ospiti anche dell'assenza molto rumorosa di Luigi Di Maio per parlarne un parterre di primissimo piano Riccardo Molinari capogruppo della Lega Elisabetta Gualmini del Partito Democratico il professor Giulio Tremonti Maria Teresa Meli poi nella seconda parte arriverà Bruno Vespa che con Daniela Santanchè e Valeria Fedeli si confronterà sull'ultima sua fatica letteraria dedicata al fascismo che non può tornare infine alle 13 un faccia a faccia con Lucia Borgonzoni e la sua sfida al PD di Stefano Bonaccini questo e tanto altro tra pochissimo all'aria che tira Andrea a te grazie prima di chiudere vediamo c'è l'audio sente Gomez e non ci sente vediamo si sento ecco brevissimo ti fa una domanda rapida i tre quarti dei processati vengono assolti con questo tipo di prescrizione dovranno aspettare vent'anni ecco l'incongruenza fra una cosa e l'altra sentiamo la risposta tre quarti vengono assolti Napoli le spiego le spiego già adesso si prescrivono i processi durano tantissimo se so che non si arriva alla prescrizione e so di essere raggiunto da prove forti patteggio e diminuisco il numero dei processi e quindi i processi contro gli innocenti si concluderanno prima ma sono troppi un milione e duecento allora facciamo così processi l'anno è impossibile farli Peter facciamo così siccome tu ci hai scritto un libro Napoli un attimo vediamo vediamo se nei prossimi giorni compatibilmente anche alle tante cose che fa Peter Gomez se riesce a venire e dedichiamo una puntata perché questo è un tema caldissimo alla giustizia e alla prescrizione se posso volentieri grazie Lampo tweet Lampo uno perché non funziona la mediazione si no? per diminuire il numero di processi era sì una camera di compensazione lo chiediamo a Gomez la prossima volta secondo vogliamo fare tutti una riflessione sulla preferenza io cittadino che vado al voto voglio esprimere la preferenza si sta discutendo di nuova legge elettorale credo non piaccia molto al partito democratico la preferenza o non solo al partito democratico questa è un'altra discussione grazie a tutti voi abbiamo parlato di molte cose quindi mi scuso se qualcuno ho dovuto comprimere nelle considerazioni ma insomma questa è l'attualità è in corso alla camera come dicevamo il dibattito dopo le comunicazioni del premier Conte atmosfera incandescente come è facile prevedere sarà incandescente l'atmosfera nel pomeriggio in senato adesso c'è la reghetina ci vediamo domani grazie di nuovo la seconda cosa non è grazie grazie grazie